bella a tutti ragazzi sono factor mode oggi sono qui per presentarvi guerra del weekend nel weekend ecco in cosa consiste praticamente abbiamo questa sezione guerra nel weekend gioco delle armi lanciatori la spiegazione dice uccidi i giocatori con il tuo lancia granate per passare l'arma successiva vince il primo che esegue un uccisione con ogni arma quindi praticamente bisogna andare a fare ecco queste sono le cose che odio di questa modalità ragazzi ecco vedi ci sono già i bambini che gli arrivano a coltellare perché non sanno giocare sono capaci dopo sapete mi viene nervoso anche me e ricordate anch'io ah è morto eh andiamo con la k47 ed eccolo l'altro da dietro siamo in 2 a 5 ok rpg vabbè mi sono suicidato però sono arrivata la pala vediamo se questo nabbo è ancora qua o se già non c'è più ma non c'è più oh yes e ritorniamo alla prima arma vedete è tutta una questione di oh che stai oh è la madonna oh era ora urco dia sono seccato sono a 9 ragazzi il secondo è a 5 vediamo se riesco a seccare questi due Mi ha ucciso lui Andiamo a vedere Dove è questo nab E vai affanculo Mi ha ucciso Sto gran Un gran pezzo di mierda Colpo diretto Uh, guardano Ucciso Sta arrivando là Davvero non l'ho capita Guardano, guardano, guardano E' rosseccato No, ma verete, cazzo Scoppia quando non voglia lui E muore allora E muore anche te Che mi buttare Colpo diretto Un altro colpo diretto Sto diventando un po' nervoso Dopo che c'è quell'altro foto Che a dieci mi sta seguendo Alla grande Guardatelo Beccato in pieno E speriamo E speriamo che ne becca uno di qua Uh, mamma mia guardalo ebbene così ah c'è qui uno che ti spara urco di esse oh yes guarda l'altro no si pure ha fatto la doppia ragazzi oh e là questa è spiegatemi come ho fatto non prendono tutte quelle volte che ho coltellato che il facile oh yes meno una più facile oh yes meno una ragazzi mi mancano quattro cesure io ho finito ok colpo permettendo riesco magari a chiuderla così vediamo con l'ultima arma in modo semplice no c'è un bastardo che mi punta e chiudo la partita e chiudo la partita momento di livello vittorio gioco delle armi 1 ho fatto l'obiettivo 27-17 il rapporto di 1-59 non male non male stamattina stamattina ho fatto la partita ho fatto 32 uccisioni perché ho coltellato un paio di persone siccome sono vendicativo e mi sono vendicato con tutti bene mi raccomando ragazzi provate questa modalità che è una bomba speriamo che nel prossimo weekend mettano qualcosa di più interessante e dopo questo vi saluto un saluto da Factor Mode